E veniamo adesso alla descrizione del caso ecografico e facciamo dei commenti chiarificatori del caso. Prima cosa da vedere, la cisterna magna è normale, il cervelletto è normale, il sistema nervoso centrale è normale. Questo perché? Perché quando tu trovi uno a scoliosi devi andare a vedere anche la cisterna magna e il cervelletto. Poi vediamo che il profilo è normale, che il labbro è normale, avete letto che ci poteva essere un labio palatoschisi ma non c'era un'evidenza all'ecografia, ma vai ad osservare quello scalino che vedi a livello del mento che ti dice che c'è una micrognazia, la vedremo dopo. Hai visto per un istante che il cuore era sano ed ecco quello che devi vedere. Per poter dire che c'è una scoliosi devi vedere che il binario non è dritto ma che ci sta una deviazione laterale, una curvatura laterale che poi è la definizione di scoliosi. E naturalmente quando vai a vedere la scoliosi te la devi vedere vertebra per vertebra, per vedere se ci stanno degli emispondili, se manca una vertebra, se ci sta una spina bifida, se ci sta associata delle altre anomalie, quindi porre la grande attenzione al sacro come stiamo facendo. E dopo di che dici che ci sta una scoliosi, controlli che va tutto bene, qui vedi che il cordone ha tre vasi, è osservato anche l'ultimo tratto della colonna vertebrale e quindi hai messo in evidenza il sacro. Qui che cosa vedi? Qui vedi che ci stanno entrambi i piedi torti. Noterai che la coscia è flessa sulla gamba ma ci stanno i piedi torti. I movimenti li vedrai per un momento alle viste, li posso assicurare che i movimenti erano normali e vedi questi piedi torti bilaterali. Il piedi torto bilaterale può essere a prescindere, può far parte di una sindrome, può essere legato ad un'alterazione della conduzione nervosa, può essere legato ad una gelesia del sacro, può essere legato ad una spina bifida, può essere senza nessun motivo, qui ci sono i piedi torti. E allora noi dobbiamo sempre descrivere tutto, dobbiamo dire una scoliosi, una micrognazia, i piedi torti. Vi vediamo per un istante il labbro e vediamo che è normale. Vedi qui questo scalino che ti permette di poter dire che ci sta una micrognazia. E la segnaliamo. L'accuratezza della micrognazia è bassa, nel senso che il più delle volte tu non te ne accorgi, qui si vede, ed è abbastanza pronunciata. E allora andremo a fare la tridimensionale e la vedrai meglio. Ma nella tridimensionale ti spingo ad osservare l'orecchio che si vede che è nettamente un'inserzione più bassa dell'orecchio. Questo ovviamente perché non ce ne siamo accorti? Perché non fa parte delle linee guida vedere la posizione dell'orecchio. Non si è mai sicuri se è vero o è falsa la nostra, così come non ci sta una grande accuratezza per la micrognazia. In questo caso la si vede nettamente che questo mento è piccolo e quindi sappiamo che c'è scoliosi, mento piccolo, piedi torti. E avevamo quindi messo in evidenza micrognazia, avevamo messo in evidenza questi caratteri che poi troverai alla nascita. Qual è il messaggio che ti dici? Che dopo che tu l'hai vista devi comunque mandarla a fare una consulenza genetica. Nel vedere questo eravamo colpiti dal fatto che le mani non me le apriva mai. Allora vedi che scuoto con la sonda per cercare di far muovere, di far aprire queste mani. Non solo non le apri, ma se le vai a vedere vedi che sono un poco tutte incurvate. e cerchiamo di farle muovere perché rimaniamo colpiti dal fatto che il primo e il secondo dito sono sempre ravvicinati. Ci sta addirittura un aspetto tipo overlapping che ci poteva far pensare a tante cose, ma lo descriviamo. E di più non possiamo andare. Qui tu vedi che osserviamo questo e osserviamo questo aspetto. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo questa situazione delle mani che poi dopo esposte risultaranno essere affette da una camptodattilia. Vediamo che il primo e il secondo dito vanno addirittura fusi tra di loro, come se ci fosse una sindattilia. In realtà non è così, non c'era una sindattilia. Vedi qui stiamo mostrando il primo e il secondo dito, poi ci ritorneremo. Per molto tempo cerchiamo di far aprire questa mano. Qui tu vedrai per pochi secondi, ma l'esame è durato tempi lunghissimi. E rimane sempre con questo aspetto delle mani che tu segnalerai, considererai la consulenza genetica, descriverai ogni cosa e poi sarai il genetista a prendere, a stabilire il da fare. Vedi qui mettiamo il primo e il secondo che sono tra virgolette, sembrano fusi, ma non lo sono. Il terzo, il quarto e il quinto. Hai visto la relazione dopo la nascita, quindi ci stava la camptodattilia, ci stava la scoliosi, ci stava la microignazia, ci stava l'impianto basso delle orecchie. E adesso ti voglio far rivedere velocemente le cose. Vedi la rachide, la curvatura laterale, e quindi facciamo diagnosi di scoliosi. Ti ricordi che abbiamo visto prima i piedi torti, ti ricordi, e lo vedrai tra poco, che ritorneremo a vedere l'ultimo tratto di colonna vertebrale che appare perfetta ad escludere la cosa più grave che è la genesia del sacro. Rivedi la scoliosi, e qui la vedi molto chiara, non ci stanno degli emispondeli, ho la mancanza di una vertebra, per far pensare a un'emivertebra come causa, e poi dopo il problema delle mani l'hai visto, il problema del mento l'hai visto, io ti ringrazio dell'attenzione. Ecco, qui vedi i piedi torti, ti ringrazio dell'attenzione. Il mento picco.